Sì, è il Corriere. Corriere 1. Sì, è il Corriere 1, lì dietro. Sì, è il Corriere 1. 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 Grazie. 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 Ma perché l'erba lumina? No, asciura. Grazie. Esotico. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.